Ciao da Avsim! Purtroppo Giorgio Chiellini salterà almeno le prossime tre partite della Juventus, quindi non ci sarà sicuramente giovedì contro il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa Italia, ed è una gara secca, ed è una gara unica, si potrebbe anche andare a supplementare i rigori, insomma è da dentro fuori. Poi salterà anche la partita decisiva di domenica 13 febbraio contro l'Atalanta, Juventus che ha superato virtualmente l'Atalanta in classifica ma vincendo consoliderebbe il quarto posto in questo momento, quindi una partita veramente importantissima, e salterà anche il ritorno del derby, quindi il derby in casa di quest'anno, Juventus Torino, di venerdì che anticipa poi la partita contro il Villarreal. E stando a quanto riportato in particolare da Sky Sport, Giorgio Chiellini non rischia di saltare solo queste tre partite importantissime, super decisive, non solo per questa stagione ma in generale per questo progetto, perché sarà importante andare avanti in Coppa Italia, consolidare e anzi migliorare il quarto posto e naturalmente mettersi bene anche per la Champions League, ma appunto rischia di saltare anche l'andata di Champions League contro il Villarreal. Insomma, ballano tre o quattro partite nel prossimo calendario personale di Giorgio Chiellini che potrebbe appunto saltare. Il tutto per un affaticamento al polpaccio accusato durante l'ultima partita, durante Juventus Verona 2-0, in realtà sul finire della partita, quindi nel secondo tempo, quando appunto è stato sostituito da Rugani, che è entrato, ha fatto bene. Chiellini si era visto che già qualche minuto prima aveva accusato qualche problema, qualche fastidio, aveva subito anche un contrasto in area di rigore, forse irrilevante rispetto al suo infortunio successivo. Fatto sta che già nelle dichiarazioni post partita di Juventus Verona, Allegri aveva annunciato che si trattava di un problema fisico, di un affaticamento al polpaccio, quindi un problema muscolare più che di un problema fisico, e che quindi avrebbe tenuto fuori Chiellini comunque per un po' di giorni. E purtroppo i pensieri erano proprio quelli di un Chiellini fuori per due o tre partite, cioè ce l'aspettavamo quando sentiamo affaticamento al polpaccio, perché Chiellini è quello. È già successo altre volte, purtroppo sappiamo che Giorgio è fragile da questo punto di vista, ha avuto tanti, tanti problemi muscolari, soprattutto al polpaccio, negli ultimi anni, ciò nonostante mettendosi sempre a disposizione quando chiamato in causa e quando ce n'era bisogno per la Juventus. Come ha fatto appunto proprio contro il Verona, rientrando da titolare dopo diverse partite in cui non era stato in grado di giocare, soprattutto per i postumi dei 120 minuti della Supercoppa italiana contro l'Inter, e con Rugani che aveva sostituito un po' lui, un po' Bonucci, anche egregiamente, ma era stato fatto accomodare in panchina proprio per il ritorno di disponibilità di Chiellini, che evidentemente era la cosa più importante. La cosa più importante però, se vogliamo, per sdrammatizzare, è che Chiellini non dovrebbe in alcun modo rischiare di saltare la partita contro Macedonia del Nord con la maglia della Nazionale. Certo, è una cosa secondaria, Chiellini ovviamente è il capitano della Juventus e la Juventus è al primo posto per lui, però sicuramente gli farà piacere pensare che rientrando in tempo per la partita contro Macedonia del Nord, decisiva per la storia dell'Italia, perché anche quella è da dentro o fuori, e se è fuori significa addio mondiali, sarà in grado di rientrare anche qualche partita prima per la Juventus, per giocare con la Juve. Quindi magari ce la può fare contro il Villareal, è un countdown, perché di Chiellini evidentemente abbiamo bisogno, l'Aventus ha ancora bisogno di Giorgio Chiellini in questa stagione, come ha dimostrato con i numeri che ho raccolto, perché dimostrano proprio i numeri di Chiellini quanto lui sia fondamentale. Sono numeri eccezionali, sono numeri di un difensore che ancora, non ne sbaglia una, un difensore che è ancora fenomenale. A parte il fatto che comunque, quando parliamo di Giorgio Chiellini, parliamo pur sempre di Giorgio Chiellini. Infatti i giudizi su Giorgio sono quelli di una tifoseria che ha grande riconoscenza e che sa riconoscere le leggende, il talento, l'amore per la maglia. Quindi quando leggiamo commenti su Chiellini sono sempre commenti dolci, commenti positivi, quasi mai commenti di critica, ma d'altra parte come fai? Come fai a criticare Chiellini con quello che è stato per la Juventus, con quello che ancora è? Cioè trovate un altro giocatore che alla veneranda età di Chiellini sta in campo, strenuamente, stringe i denti quando non ne ha? Non certo per questa cosa di andare a fare il mondiale, che è chiaramente secondario, ma per dare il meglio di se stesso alla Juventus. Infatti il rinnovo biennale che gli è stato accordato all'inizio di questa stagione non c'entra nulla il mondiale che si farà dopo questa stagione, perché appunto è novembre-dicembre, perché è un rinnovo che va anche oltre, non è un rinnovo che scade a dicembre 2022, va oltre, arriva giugno 2023 e chissà che non ci sarà anche un ulteriore appendice di questo periodo alla Juventus di Chiellini, di questa storia alla Juventus di Chiellini. Il giocatore più longevo che abbiamo attualmente in rosa è l'unico ad avere vinto tutti e nove gli scudetti consecutivamente senza saltarne neanche uno. Quindi grande riconoscenza a Chiellini da questo punto di vista, se la merita. Poi è chiaro che tutti sono imperfetti, tutti possono sbagliare, però quando Chiellini fa le sgroppate, tipo contro il Verona, che prende palla, se ne va in attacco e che è grande capitano. Sono quelle giocate caratteristiche, caratterizzanti di un giocatore immortale, di un giocatore che non si tira mai indietro, che non si tira mai indietro e forse proprio per quelle sgroppate magari ha sofferto questo infortunio al polpaccio, per avere dato troppo, per avere dato tanto ad una Juve che evidentemente ama più della nazionale, decisamente più della nazionale. Nei suoi pensieri c'è soprattutto la Juventus. E quindi la partita contro il Verona non era, come si è detto, per portarsi avanti a livello fisico, per stare bene poi in funzione di Macedonia del Nord, contando un po' le partite in cui poter accumulare minuti, ma era chiaramente per trovarsi al meglio contro il Villarreal, ma anche contro l'Atalanta, perché magari, giocando col Verona, avrebbe saltato il Sassuolo in Coppa Italia, quindi non l'avrebbe fatta comunque, perché comunque in tutte le partite Chiellini non le può fare, però sarebbe stato pronto, fresco, contro l'Atalanta, che era una partita decisiva e fondamentale. E appunto dicevo i numeri, perché è chiaro che Chiellini desideri giocare, ma non per se stesso, per il bene della Juventus, perché i numeri di Chiellini dicono proprio questo, che Chiellini fa la differenza in positivo ancora in questa stagione, ancora in questa stagione, ed è qualcosa di clamoroso, perché infatti abbiamo che lui fino a questo momento ha disputato 16 partite, compresa anche la finale Supercoppa Italiana e il turno, gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, e in queste 16 partite, pensate, con lui in campo, considerando anche i minuti, cioè considerando anche il periodo in cui è stato in campo, quindi il risultato iniziale e finale del suo periodo in campo fossero stati anche 30 minuti, anche 20 minuti, no? Perché è chiaro che se un giocatore entra sul risultato di vittoria, ma nel periodo in cui lui è in campo è 0-0, con lui in campo vale il pareggio, che non è negativo perché si mantiene, si consolida magari il risultato acquisito prima, quantomeno non si perde. Stesso discorso per quanto riguarda i gol fatti e subiti, quindi questo è il parametro che ho utilizzato per calcolare la differenza tra con e senza Chiellini ancora in questa stagione. Quindi abbiamo che con Chiellini sono 6 le partite vinte, 5 quelle pareggiate e 5 quelle perse, quindi vedete che preponderanza per il risultato positivo, con una distribuzione quindi del 37,5% di vittoria con Chiellini in campo, 31,3 pareggio e 31,3 sconfitta. Quindi nettamente meglio, cioè 37,5 è molto di più di 31,3 e 31,3, anche volendoli sommare insieme, ma in realtà possiamo considerare pure il pareggio come un risultato positivo quando c'è Chiellini in campo perché comunque ci sono partite in cui è meglio non perdere anche se non puoi vincere. 15 i gol fatti con Chiellini in campo, solo 8 i gol subiti e quindi parliamo di 0,9 gol fatti a partita e 0,5 gol subiti a partita con tanti clean sheet che abbiamo visto quest'anno. E invece senza Chiellini, senza Chiellini le cose si fanno veramente difficili. Perché se abbiamo detto 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con Chiellini in campo, 15 gol fatti e 8 subiti, senza Chiellini decisamente peggio. Nelle partite in cui Chiellini non ha giocato e nelle porzioni di partita in cui Chiellini non ha giocato, anche se la gran parte delle sue 16 presenze sono state dall'inizio e per 90 minuti, la Juve ha vinto solo 14 partite. 14 partite, 2 pareggi, 4 sconfitte. Quindi abbiamo che senza Chiellini si vince il 70% delle partite, se ne pareggia il 10% e se ne perde il 20%. Che numeri sono rispetto a con Chiellini? Con Chiellini 37,5% di vittoria, 31,3 pareggio e 31,3 sconfitta. Sono numeri chiaramente da giocatore determinante. Cioè con Chiellini e senza Chiellini c'è una differenza incredibile. Chiaramente senza Chiellini la Juve cambia completamente. Cioè non si può rinunciare a Chiellini con questi numeri, non solo, ma abbiamo segnato senza Chiellini solo 33 gol e ne abbiamo subiti ben 14. Quindi a differenza che con Chiellini 0,9 gol a partita e 0,5 presi a partita, senza Chiellini 1,6 gol fatti a partita e 0,7 subiti. Sono stati chiaramente peggiori. Cioè non possiamo, la Juve non può ancora rinunciare a Chiellini. Che poi tolto questo discorso di squadra, perché poi non è che segni perché hai Chiellini o non segni perché hai Chiellini, o non subisci gol o subisci gol perché c'è Chiellini o non c'è Chiellini, Chiellini chiaramente ha il suo impatto, anche motivazionale, anche di spogliatoio, anche di esperienza, però nel contesto di squadra. Ma ci sono i suoi numeri individuali, Fonte, FB, Ref, che dicono che quest'anno naturalmente 0 gol 0 assist, ma non è questo che chiediamo a Chiellini. Ha fatto un solo tiro, non nello specchio della porta, ma non è questo che chiediamo a Chiellini. Però ha fatto 74, circa 74 possessi a partita, circa 63 passaggi a partita, anzi in media su una partita ideale di 90 minuti, escludendo però Coppa Italia e Supercoppa Italiana perché non c'è copertura statistica, quindi non abbiamo i dati completi, almeno su FB Ref. Quindi togliendo Sampdoria, Inter, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, Chiellini fa in questa stagione 74 possessi ogni 90 minuti, 63 passaggi ogni 90 minuti con la precisione altissima, pensata del 75%. 75% di precisione, veramente molto puntuale, molto preciso in media Chiellini in questa stagione. Vince, anzi tenta 1,5 contrasti ogni 90 minuti e ne vince 0,9, subendo solo 0,44 dribbling ogni 90 minuti. Compie, completa un intercetto netto in media ogni 90 minuti e fa 5,2 spazzate ogni 90 minuti. Le gloriosi spazzate di Chiellini, quelle che puliscono l'area, quelle che salvano da ogni pericolo perché quando spazzi il pallone restituisci palla all'avversario più delle volte però allontani il pallone e poi non c'entra nulla se può tornare immediatamente in difesa perché eventualmente poi fai un'altra spazzata. Quindi la spazzata è decisiva e determinante, è il cuore pulsante del calcio moderno soprattutto. E poi andiamo avanti con la percentuale di pressing, 39,1% di pressing riuscito da parte di Chiellini nei vari posti del campo, nelle varie zone di campo. 2,2 respinte ogni 90 minuti che siano passaggi o tiri, un muro di gomma. 5,3 duelli aerei vinti a partita con un tasso di vittoria del 68,2% e inoltre ben 8,8 palloni recuperati in media ogni 90 minuti, 1,1 falli commessi ogni 90 minuti e 1,9 falli subiti ogni 90 minuti. E questo complessivamente comporta che Chiellini conquista in media su 90 minuti 19 palloni con conquista intendo recuperi, falli subiti, duelli aerei vinti, contrasti vinti, pressing efficace, escludendo naturalmente le respinte perché con la respinta non è detto che il pallone lo conquisti, anzi spesso no. E quindi considerando questi cinque elementi, Chiellini conquista circa 19 palloni a partita ogni 90 minuti, mantiene circa 47 possessi ogni 90 minuti, tenendo conto in particolare dei passaggi indovinati sui 63 in media su 90 minuti con il 75% di precisione e rispetto ai 19 possessi conquistati, Chiellini ogni 90 minuti in questa stagione perde solo 24,7 possessi, circa 25. Quindi chiaramente è un dato positivo, 19 possessi conquistati, 25 possessi persi. E' un Chiellini imprescindibile in positivo nei possessi persi, naturalmente è considerato i falli commessi, le spazzate, i passaggi sbagliati, i duelli aerei persi, i dribbling subiti, i contrasti persi e il pressing inefficace. Anzi no, il pressing inefficace no perché quello se lo fai bene recuperi, se non lo fai non perdi certamente il pallone. Quindi considerando questi elementi che, capite, costituiscono possessi persi, Chiellini ha un bilancio nettamente positivo. Il tutto con, fino a questo momento, tre infortuni che gli avevano fatto saltare sei partite su 32 di netto. Poi ci sono state le partite in cui per affaticamento fisico, comunque scarsa condizione, era stato comunque in panchina. Chiellini ha giocato solo sette minuti di questa Champions League, per esempio. Ha saltato tutto il girone e solo subentrato in Juventus Chelsea 1-0. Mentre con questo quarto infortunio pure muscolare, tra l'altro ha saltato anche altre partite per altri problemi, ma non sono stati infortuni muscolari, con questo quarto infortunio muscolare arriva a saltare appunto fino a nove partite, quindi un totale di nove almeno, perché dovrebbe saltare, come abbiamo detto, Sassuolo, Atalanta e Torino, su un totale di 35 giocate dalla Juventus. In realtà, nel momento in cui sto registrando, stiamo aspettando l'esito degli esami su Chiellini, ma è già attraverata la voce che si tratta di un infortunio che gli farà saltare queste tre partite per un giocatore che con 5 milioni di stipendio lordo costa soltanto 4550 euro al minuto in campo. Quindi Chiellini, tra l'altro, che con un rendimento di questo tipo costa anche veramente poco, veramente poco. Quindi, ripeto, con Chiellini in campo si vince il 37,5% delle partite, senza Chiellini se ne vince il 70%. Con Chiellini, cioè Chiellini conquista 19 possessi a partita, ne perde invece soltanto 25 circa, il tutto con uno stipendio di 4550 euro al minuto, tenendo conto dello stipendio lordo. Quindi Chiellini imprescindibile, speriamo che torni presto per la nazionale, ma soprattutto per la Juventus, di cui è capitano fino alla prossima spazzata, fino alla prossima sgroppata. Grazie per la vostra attenzione e buon dibattito nei commenti sull'importanza fondamentale di Chiellini in questa Juventus e su quanto sia inadeguato, tra l'altro, Rugani a sostituirlo, senza Chiellini cambia completamente la Juve in negativo. E questo mi sembra evidente dai dati che vi ho letto, e non si può dire il contrario. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e abbonatevi anche solo a 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi, tra cui sapere in anteprima quando usciranno i miei nuovi video e di cosa vi parlerò, scoprire, come la penso, nelle chat riservate sul mio server Discord e partecipare in esclusiva ai miei live post partita della Juventus. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!